Musica Ben trovati ad una nuova settimana in compagnia dell'agenda di Telebelluno. Vediamo qualche proposta per martedì 5 giugno. Oggi vi presento due iniziative, cominciamo con la prima. Continua anche in questi giorni la possibilità di far visita alla mostra ospitata al Centro Culturale di Santa Giustina e dedicata alle opere dei laboratori scolastici della Scuola Media di Santa Giustina. L'esposizione rimarrà aperta fino all'8 giugno prossimo. Lab 77, associazione confini culturali, nata a Belluno e preseduta da Fabio Cavessago. nata a Belluno, diciamo, meno di un anno fa, è lieta di presentare il primo Treviso Photographic Festival che sarà gratuito e ospitato nelle piazze della città di Treviso fino al 20 giugno prossimo. L'obiettivo è quello di portare l'arte in forma gratuita al centro delle piazze, un momento per riflettere, focalizzare un'immagine, emozionarsi, alzare la testa e guardare i palazzi come se fossero un museo a cielo aperto, senza entrate o uscite. L'appuntamento quindi è rivolto a tutti per prendere parte a questo primo Treviso Photographic Festival. Ed è tutto anche per l'agenda di oggi. Arrivederci! Grazie!